Vinciamo il virus, esponiamo il tricolore. La bandiera è il simbolo di una nazione, del suo popolo, della sua cultura, della sua identità, dei suoi valori. È il simbolo dell'unità. Per questo invito tutti i cittadini padovani e veneti e le amministrazioni pubbliche in questo momento di emergenza nazionale ad esporre il tricolore sui balconi delle proprie case, davanti alle strutture sanitarie, agli esercizi commerciali, perché questo simbolo possa essere un richiamo al senso di responsabilità e di unità. Oggi abbiamo una partita molto importante che possiamo vincere solo assieme. Per questo è il momento di esaltare i valori che da sempre contraddistinguono il nostro Paese. Il tricolore è il simbolo di vicinanza, di unità e di responsabilità. Oggi ancora di più fieri di essere italiani.